singoli turisti scolaresche e gruppi organizzati i parchi italiani rappresentano una destinazione in costante aumento in termini di presenze turistiche sono infatti più di cento milioni i turisti che visitano le aree verdi del bel paese tra queste il parco della maiella dove ogni anno si contano più di diecimila presenze che giungono da tutta europa per ammirare i camosci che rappresentano oggi un asset fondamentale per il turismo verde in abruzzo grazie